Appuntamenti in agenda per mercoledì 8 novembre. Prende il via a Genova la 21esima sessione programmatica del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti dal titolo L'Italia che cambia tutelare di più e meglio consumatori e utenti. Primo giorno di lavori nella sala delle compere di Palazzo San Giorgio a Porto Antico a partire dalle 9. Secondo appuntamento con gli Educational Tour promossi dal Consorzio Una Montagna di Accoglienza nel Parco per gli operatori turistici. Questa volta si andrà alla scoperta della Valle Sturla a partenza alle 9 da Chiavari. Ultimo intervento legislativo in tema di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Legge 69 del 2023 nota come Codice Rosso e il tema della lezione di diritto dei corsi di cultura di Chiavari. Docente sarà Nicola Orecchia dalle 16.15 nella sala livellara di Via del Pino a Chiavari. Facciamo la pace, antimilitarismo, pacifismo, giustizia climatica ed economica per costruire un mondo senza guerra. E' il titolo dell'incontro in programma dalle 17 all'auditorio di Largo Pessagno a Chiavari, un'iniziativa promossa da Ampi Chiavari con il patrocinio del Comune. Parteciperanno Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell'Ampi, Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della rete italiana pace e disarmo e Don Paolo Zanandreis, responsabile della pastoralio sociale del lavoro della diocesi di Chiavari. Prosegue la rassegna Mondovisioni, documentari di internazionale alle 20.30 nella sala agave dell'ex convento dell'Annunziata Sesti Levante verrà proiettata la pellicola Theater of Violence.